Fanno parte dei partecipanti, fanno parte del mio corso di robotica di ingegneria informatica per cui è una grande opportunità di questo hackathon perché permette ai ragazzi di confrontarsi con delle idee progettuali che possono avere anche dei rispolti sociali oltre che industriali quindi è un'opportunità molto importante per noi e per i nostri ragazzi e inoltre appunto la robotica ormai deve possi queste problematiche di tipo sociale non solo più di tipo industriale e queste problematiche sociali possono avere anche un risvolto di business, possono avere anche un risvolto internazionale quindi io sono molto contento di partecipare qua e di aver portato gli studenti proprio perché è una grande opportunità